Alberico Di Cecco, coordinatore tecnico della SD Vini Fantini e che domenica insieme a tanti bambini dai quattro anni in su sarà qui a Lanciano presso la pista di atletica Memmo per un saggio, anche per condividere con i genitori di questi bambini il buon lavoro svolto finora. Assolutamente sì, diciamo che a livello tecnico ed è quello l'aspetto che non è secondario, sarà un momento importante perché andremo un attimo a valutare il lavoro svolto in questo periodo e a coordinare quella che sarà la programmazione per meglio sviluppare tutte le abilità di tutte le età di tutti i nostri piccoli e grandi atleti. A livello generale sarà una giornata bellissima perché avremo la possibilità di coordinare tutto il movimento della SD Vini Fantini che prevede e consiste non solo di settori giovanili ma anche di settori assoluti amatoriali con importanti risultati un po' dappertutto ma in effetti siamo una grande famiglia che avrà la gioia di ritrovarsi, l'impianto Memmo di Lanciano è veramente la location più bella, più sicura anche per il momento pandemico in cui ci troviamo e di questo ovviamente va a nome mio di tutta l'associazione un ringraziamento importante all'assessore Ranieri, a tutta l'amministrazione comunale, al sindaco Paolini per aver messo a disposizione un impianto così bello. Ricordiamo quali saranno le scuole di atletica che parteciperanno a questo evento e come si svolgerà la giornata? Ma diciamo la SD Vini Fantini è un'associazione che ha sede a Pescara, quindi abbiamo sul territorio della costa ma negli anni ci siamo molto radicalizzati un po' su tutto il territorio. Da Fara San Martino siamo partiti in un corso di atletica che poi si è decentrato a Villa Santa Maria con una seconda sede molto ma molto importante, recentemente è stato aperto un corso a Torricella Peligna e a Lama dei Peligni. Il signor Mauro Pingiotti è il coordinatore del settore amatoriale della Vini Fantini, oltre ai bambini infatti domenica ci sarà una sorta di esibizione anche dei più grandi? Dei master, sì effettivamente sono il coordinatore dei master e ci sarà un 5.000 in pista, quindi alle 11.15 si partirà con questa manifestazione e quindi mentre i bambini fanno le loro attività noi partiremo con questo 5.000 dove non essendo una gara ognuno andrà al proprio ritmo, al proprio passo. Quanti ne sarete? Penso che ne saremo intorno a circa 20 atleti. L'assessore allo sport del comune di Lanciano, Danilo Ranieri, ha ricordato che spesso si dice, a volte anche vanamente, che Lanciano deve essere al centro del territorio e questa è proprio una dimostrazione che Lanciano può essere al centro del territorio perché oggi c'è stata la conferenza stampa di questo evento che interesserebbe Lanciano abbastanza marginalmente visto che la Vini Fantini farà una sorta di open day con delle scuole aperte in vari centri dell'entroterra. Voi mettete a disposizione l'impianto di atletica? Sì, spesso e volentieri si sente anche durante le campagne elettorali ma in generale che Lanciano deve essere capofila del territorio, Lanciano al centro, Lanciano deve guidare. Noi pensiamo, io come amministrazione ma in generale questo è un compito che mi appartiene anche mentalmente ma insomma attraverso anche l'assessorato che ho, la cultura e lo sport, ritengo che siano elementi, sezioni nelle quali Lanciano deve tornare più che a parlare ad essere a servizio e quindi si deve mettere umilmente a servizio del territorio e come abbiamo fatto in questo caso abbiamo accolto immediatamente e favorevolmente l'iniziativa della SD Fantini e di questi comuni montani, Villa Santa Maria, Torricella, Lama dei Peligni perché così facendo, ospitandoli, facendo in modo e dicendo a loro che Lanciano è casa loro vengono qui tutti questi bambini che ci hanno appena detto che per loro è un sogno entrare nella pista di atletica di Lanciano. Noi non solo vogliamo che realizzino questo sogno ma vogliamo che si sentano a casa loro perché questo è secondo noi, questo aprirsi attraverso la cultura, attraverso anche aprire le nostre strutture sportive un modo per rendere questo servizio, per mettere Lanciano a disposizione del territorio e per ricollegarlo all'intero territorio che sia il sangue che sia l'Alto Aventino non ha importanza. L'importante è che torniamo a fare rete, l'importante è che torniamo a fare sistema e a fare una grande comunità, tutti insieme. Lei ha lanciato anche una proposta ampiamente condivisa da tutti gli altri quella di ricordare per la prima volta dopo l'accadimento nefasto il sindaco di Fallo Alfredo Salerno. Alfredo Salerno che conoscevo personalmente, mi unisco al Cordoglio, alla moglie Carla, qui a Lanciano ci sono le sue cugine conosco lo zio Carmine Salerno, io ho lavorato come avvocato quando ero molto più giovane per quelle comunità che conosco, le comunità montane di Quadri, Quadri, Fallo, Civirato Luparella conoscevo personalmente Alfredo, conosco l'attuale sindaco che era vice sindaco Gianluca Castracane quindi innanzitutto il cordoglio personale, mi sembra diciamo così, evitando le banali di dire cose purtroppo banali quando si perde una persona a 55 anni qualunque so sia il dolore è tantissimo ma lo dicevo in questo senso perché conoscendo Alfredo e conoscendo il lavoro che fanno questi sindaci delle comunità montane che sono veramente degli eroi a mantenere accese le luci di queste loro piccole comunità di questi piccoli comuni mi piaceva e ho lanciato quest'idea che è stata raccolta in un momento di gioia essendo che vengono 70-100 bambini di lanciare un palloncino in aria più che un minuto di raccoglimento o 30 secondi di raccoglimento di lanciare un palloncino in aria e di salutare Alfredo Salerno in maniera gioiosa da parte di queste comunità montane che lo hanno conosciuto come l'ho conosciuto io e quindi ho lanciato quest'idea è stata raccolta probabilmente si farà prima dell'inizio dell'allenamento lanceremo un applauso un saluto un augurio ovviamente nei limiti della non vogliamo che diventi un momento di tristezza vogliamo salutarlo con gioia insomma è stata accolta la proposta e mi fa piacere rinnovo il cordoglio alla famiglia Tra i fautori di questa iniziativa il sindaco di Villa Santa Maria Pino Finamore Villa Santa Maria è stato creato come scuola di atletica questo centro all'inizio dell'anno in corso nel mese di marzo ma c'è stato uno sviluppo davvero esponenziale da parte dei tanti iscritti Sì beh c'è stato uno sviluppo che non abbiamo preso in considerazione all'inizio questa iniziativa nasce a marzo del 2021 per un'idea di Adriana D'Agostino è che il sindaco che è il marito ha sposato subito e quindi ci siamo ritrovati in un brevissimo tempo ad avere tantissime iscrizioni tant'è vero che siccome insomma dovevamo essere attenti alle distanze il covid abbiamo dovuto anche bloccare per un periodo le iscrizioni poi sono ripartite, ha avuto un ampio sviluppo adesso siamo arrivati a 50 iscritti, ragazzi che vanno dai 4 ai 16 anni quindi è una bellissima iniziativa che dà la possibilità ai nostri ragazzi di tutto il territorio quindi non solo di Villa Santa Maria di poter usufruire di questo meraviglioso corso di atletica e quindi pensiamo di poter ancora migliorare i nostri numeri e fare in modo che tutti possano praticare questo meraviglioso sport anche perché nelle zone interne solitamente l'unico sport praticabile era solo il calcio adesso avendo Villa una palestra che siamo riusciti a fare come amministrazione comunale negli ultimi anni e stiamo realizzando anche un palazzetto dello sport in breve tempo daremo la possibilità a tutti i ragazzi non solo di Villa ma del territorio di poter usufruire di queste strutture e di poter accedere a questi corsi domenica abbiamo questo raduno con ragazzi anche di Fara, Lama e Torricella una giornata di festa anche per far vedere a tutti i genitori quanto è stato fatto sino ad oggi dal nostro tecnico Alberico di Cecco e quindi sarà una giornata spero una bellissima giornata da passare con i nostri ragazzi avremo un momento speciale perché pensiamo di poter ricordare il nostro sindaco di fallo Alfredo Salerno, grande amico con il lancio di alcuni palloncini al cielo